Era giusto riammettere i medici non vaccinati e operatori sociosanitari, secondo lei? Ma guardi, io avrei avuto prudenza, vi dico la verità, non per il fatto che oggi si può fare, quindi non è quello, però sarebbe prudenza anche nel messaggio che si lancia. Lo si può fare, però penso che i modi per farlo siano quelli di rimarcare l'importanza del vaccino. Mi sorprende, devo dire, che chi opera in sanità, qualcuno che opera in sanità, abbia contrastato, non soltanto non si è fatto, ma abbia contrastato la campagna vaccinale, che in realtà tutti i dati scientifici testimoniano l'efficacia. Detto questo, dicevo, a livello nazionale c'è un problema sanitario dove manca personale, e questo non c'è dubbio, ed è un problema, sia medico che infermieristico, e su quale da vent'anni non si era fatto nulla. Oggi fortunatamente sono aumentate le specializzazioni, le borse di studio per le specializzazioni, e potremo in prospettiva averne di nuove, ma anche questo. Non è che uno forma la specializzazione, uno aumenta la specializzazione il giorno dopo al medico pronto. Saranno i tempi di formazione per l'avere a disposizione. E io, come ho detto anche pubblicamente più volte, ho la piena consapevolezza che ci sono degli anni, adesso avremo degli anni, di difficoltà, perché, malgrado, devo dire, la scelta giusta a livello nazionale di aumentare queste specializzazioni, però saranno i tempi per avere questi medici. Quindi questi anni ci saranno. Noi abbiamo messo maggiori risorse, addirittura come regione, per formarne di più, malgrado la competenza in questo caso non sia nostra, però dobbiamo avere la consapevolezza che i problemi, soprattutto in un sistema complesso come quello sanitario, non si risolvono in un giorno. Oltretutto un sistema particolarmente provato dalla pandemia, che ancora oggi, dentro i nostri ospedali, viviamo con reparti separati, percorsi separati ed altro, che quindi richiedono ancora più personale, ma magari il personale non ci sia, richiedono un'organizzazione più poderosa all'interno di una situazione difficile.